. Classifica Fimi, perdo le parole di Ricky si riconferma primo tra gli album Classifica Fimi, Ricky primo con il suo album Perdo le parole. . Nella classifica Fimi degli album più venduti della settimana dal 21 luglio al 27 luglio, Ricky si riconferma primo con il suo album Perdo le parole, per la settima volta dopo dieci settimane dall'uscita del suo hit. . Secondo posto per Gentleman di Wepe Queno, mentre al terzo posto troviamo Gali con album, seguito dal disco On Emore Linkt dei Linkin Park, che risale dalla posizione numero 90 al quarto posto. . . Scende di due posizioni Vascono Stop di Vasco Rossi, posizionandosi alla quinta posizione, seguito dalla nuova entrata della settimana Lust for Life dei Dark Polo Gang. . . Ottavo posto nella classifica Fimi di questa settimana per l'album Evolve dell'Image Dracons seguita dalla nuova entrata dell'album dei Link Park Hybrid Theory. Si riconferma alla decima posizione l'album di Ed Sheeran diviso per. . . Classifica Fimi, tra i singoli si riconferma indetta senza pagare di Ilungax e Fedez. . . . Il primo post della classifica Fimi tra i singoli più venduti della settimana, dal 21 luglio al 27 luglio, il lunga Axe e Fedez con il brano Senza pagare, seguiti da Baby K.Fet Andres Dvicio con Voglio ballare con te. . Dopo 27 settimane in classifica Luis Fonsi ed Adi Ancher resistono alla terza posizione con Despacito, seguito da Riccione dei te giornalisti che risalgono di ben tre posizioni. Perde un posto nella classifica Fimi l'esercito del Selfie, occupando la quinta posizione, di Lorenzo Fragola e Arisa Fett. Sesta posizione per Pamplona di Fabri Fibra Fett. Te giornalisti seguiti da Thunder degli Immagini Dragons, che perdono due posizioni. Ottavo posto per la nuova entrata della settimana estate di Merda di Salmo, seguito da Megente Di Balvi e Willy William che riacquistano per cinque posizioni rispetto alla settimana scorsa. Chiude la top 10 dei brani più venduti della settimana volare di Fabio Rovazzi e Gianni Morandi. Chiude la top 10 dei brani più venduti della settimana?